Sasa Massarelli, Brixia Channel è qui con voi in estemporale con la nostra micro micro camera per andare a beccare tutti, chi ti becco a Sanremo, Michelangelo Iossa, poi direi voi il perché e il grande Orlando Giambelli che ormai tutti conoscete, allora ragazzi parlate voi che io vi ascolto, ovviamente io sono Sasa Massarelli perché è giusto che anzi sono Sasa Massarelli, Napoletano che vive a Brescia, una sintesi di noi due, ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati a Casa Sanremo in questo teatro bellissimo Optima Theater che quest'anno Casa Sanremo ha voluto dedicare a Fino Daniele, quindi come dire c'è un pezzo di Napoli anche qui, Napoli-Liverpool e poi c'è Rolando Giambelli che è il Presidente di Venezia Italia Associata dal 1992, praticamente sono un dittatore, una dittatura illuminata ragazzi a parti convenevole che voi fra poco vi bacerete anche, volevamo sapere la motivazione perché voi dopo so che vi bacerete, avete anche un rapporto molto intimo, presenterai il suo libro bellissimo che appena ho visto, ho fatto un balzo sulla sedia, ha detto bellissimo Love, proprio nel momento in cui stavo organizzando uno spettacolo d'amore per San Valentino, ho detto ecco ho trovato il modo di presentare in maniera originale, se si può dire originale questo libro bellissimo che parla d'amore, i Beatles parlano sempre d'amore, da Love Me Do fino a When in the End, When I Make It, The Take, per cui abbiamo detto tutto, basta possiamo andare, comprate il libro perché è bellissimo. Grazie, ma dopo faremo un dopo servizio, un dopo festival, un dopo libro, così parliamo di libro, lo faremo anche vedere ai nostri telespettatori e io lo dico in diretta, so che dopo daranno una copia anche a me, non è vero, però io mi sono buttato, come si dice, ora parlo metà brecciano e metà novità, se mi hai sei, voglio io mi sono buttato, si vorrei moviglie, mi sono piaciuto, mi rinque, grazie a tutti, Brixia Cianello a più tardi, grazie. A dopo.